Ha preso il via a Sestu la settimana della mobilità sostenibile, campagna dell'Unione Europea nata per promuovere mezzi di trasporto alternativi all'auto privata. Restituire la città ai cittadini rendendo le strade più a misura di persona che di auto, attraverso un percorso prima di tutto culturale. Sì, noi oggi iniziamo un percorso, dobbiamo dire, un percorso che non è altro che l'attuazione di un'idea che abbiamo coltivato già da tempo, che è quella di modificare la mobilità a Sestu, sia per quanto riguarda i veicoli, perché è necessario data la struttura urbanistica che abbiamo, e sia per quanto riguarda le persone. Le persone devono avere, secondo il nostro parere, la priorità in termini di esigenze rispetto a tutti gli altri sistemi di mobilità. Con questa idea noi vogliamo realizzare a Sestu i marciapiedi che ci mancano un po' in tutto il paese, le piste ciclabili per creare in tutti noi, in ciascuno di noi, quella cultura, quella mentalità non solo del rispetto degli ambienti, ma di rispetto di noi stessi. Nel dettaglio, piste ciclabili, zone 30 e campagne di sensibilizzazione verso una visione del traffico più sostenibile. Chiaramente quello che avverrà non avverrà nel breve periodo. Per quanto possibile, nelle strade che lo consentono, realizzare le piste ciclabili altrove, utilizzare i sistemi per rallentare il traffico, che possono essere le zone 30 oppure le strisce ponderali rialzate, e più in generale fare una campagna di educazione e sensibilizzazione, perché se non si capiscono queste cose è inutile porre gli vieti perché qualcuno riuscirà sempre ad infrangerli, per far comprendere che è importante per tutti che la città ritorni ad essere a misura di persona. La rivisitazione del traffico partirà dal centro storico per estendersi poi a tutta la cittadina. Primo obiettivo sarà creare una maggiore consapevolezza. Partendo dal nucleo storico può essere un punto di partenza, secondo me, importante. E quindi nessun intervento sulla mobilità sostenibile può essere realizzato soltanto dall'amministrazione. Se ognuno di noi non assume la consapevolezza che per poter migliorare la propria qualità della vita e il proprio benessere fisico, è quello di cambiare e utilizzare meno l'auto e utilizzare modi di trasporto sostenibili.